Benedetto Croce è stato un grande protagonista della vita culturale e non solo culturale d'Italia fra 8 e 900. Questo lo possiamo dire al di là della vicinanza e della lontananza, ovvero sia al di là della vicinanza di autori che si sono avvicinati, di critici che si sono avvicinati con particolare simpatia ed amore all'opera di Croce e anche a prescindere dalla lontananza invece dei tanti critici che Croce ha avuto in Italia. Comunque un grande protagonista della nostra vita culturale, della vita politica, ma diciamo pure della vita etico-politica del nostro paese. Questo concetto, che è un concetto crociano, qui credo possa essere utilizzato nel suo significato ampio. Benedetto Croce ha un profilo multiforme, un profilo particolare. Lui nasce come erudito. Le prime ricerche di Benedetto Croce sono proprio ricerche di erudizione, una erudizione molto forte, esercitata anche sulla nostra città, Napoli. Poi Benedetto Croce è un esperto di letteratura, è un grande critico della letteratura. Lui definiva se stesso, un po' scherzosamente, ma dietro ogni scherzo c'è anche un fondo di verità, si definiva così il Don Antonio Cardarelli della letteratura. Il riferimento al grande medico Cardarelli non è casuale naturalmente, si trattava di curare la letteratura in aspetti che rischiavano di diventare malati, di diventare patologici. Poi è quasi inutile ricordarlo, Benedetto Croce è stato un grande filosofo. Basti pensare ai famosi volumi della cosiddetta filosofia dello spirito, i quattro volumi della filosofia dello spirito inaugurati dalla grande estetica. E poi è stato uno storico importante, non soltanto un erudito, ma uno storico. Si pensi che questo ha quasi del prodigioso. In uno spazio di meno di dieci anni Benedetto Croce scrive la sua celebre tetralogia storica, in genere viene definita così, ovvero quattro importanti volumi. Il primo è la storia del regno di Napoli, 1925, non a caso lui descrive subito dopo l'ascesa al potere in Italia di Mussolini e del fascismo. Sente il bisogno di una ricostruzione storica in questo momento così delicato della vita del paese, quindi la storia del regno di Napoli, l'ho appena citata, la storia d'Italia che è del 1928, poi la storia dell'età barocca in Italia che è del 1929, soltanto un anno dopo. Insomma uno si chiede ma come ha fatto questo signore a scrivere così tanto e in periodi così limitati di tempo effettivamente l'attività di Benedetto Croce ha del prodigioso, è una parte della sua genialità, una caratteristica della sua genialità. La storia dell'età barocca è interessante anche perché è storia di una decadenza, il tema della decadenza tornerà nel nostro discorso, nel nostro discorso odierno. Croce considera il barocco un'età di decadenza, molti non lo considerano così. E poi un testo sul quale dovremo ritornare tra breve, la storia d'Europa che è del 1932, pochi anni dopo, pochissimi anni dopo, con dedica a Thomas Mann, al grande scrittore tedesco Thomas Mann. Anche su questo dovremo ritornare. Ecco ho citato per l'appunto la storia d'Europa. La storia d'Europa può essere un comodo punto di partenza per riflettere sull'idea di Europa che Benedetto Croce ebbe e che può rientrare in un discorso più generale sulle albe e tramonti d'Europa. Nel 1930, soltanto due anni prima della pubblicazione della storia d'Europa, Croce è a Oxford a un congresso di filosofi e scrive la cosiddetta memoria oxonienze, fra gli studiosi, è nota così, il cui titolo è antistoricismo. In questa conferenza nota con il titolo che si intitola antistoricismo, noi troviamo le seguenti parole che sono importanti per una riflessione sull'Europa. Croce dice così, è una citazione molto breve ma decisiva, nell'Europa si concentra la più ricca e nobile storia umana. L'Europa ha prodotto l'ideale libertà e ha tolto su di sé, questo è un linguaggio un po' aulico, qui significa e ha messo sulle proprie spalle e ha tolto su di sé la missione della civiltà nel mondo tutto. 1930, Croce può affermare che nell'Europa si concentra la più ricca e nobile storia umana e che l'Europa ha prodotto per il mondo tutto l'ideale libertà, ideale importante, non è la libertà reale perché Benedetto Croce sa naturalmente benissimo di che lacrime e grondi e di che sangue la storia d'Europa, parla di libertà ideale, della idea di libertà, una frase eurocentrica. Croce che scrive una storia d'Europa, Croce che riflette sull'idea di Europa, Croce che può dire che nell'Europa si concentra la più ricca e nobile storia umana, sa naturalmente benissimo che dieci anni prima c'è stato qualcuno che ha cominciato a parlare del tramonto dell'Europa, del tramonto dell'Occidente. Questo qualcuno è Oswald Spengler in un libro celebre, Il tramonto dell'Occidente, un libro che croce e legge tempestivamente in tedesco, Il tramonto dell'Occidente sarà pubblicato in italiano solo molto più tardi e di pochi anni orsono, una seconda traduzione del tramonto dell'Occidente ad opera di uno studioso ed amico siciliano, Giuseppe Raciti, prima c'era la traduzione di Evola che però è soltanto del 1956, ma Croce legge Il tramonto dell'Occidente appena Il tramonto dell'Occidente esce e ne scrive una celebre recensione, Il tramonto dell'Occidente esce nel 1918, già nel 1920 nella Critica, la famosa rivista di Benedetto Croce, che Croce portò avanti per ben 40 anni, pensiamo un po', nella Critica esce una recensione al tramonto dell'Occidente di Spengler ed è una recensione distruttiva. È una recensione distruttiva perché Croce si scaglia con forza contro il naturalismo spengleriano. Spengler ha detto che le civiltà sono organismi, fanno cioè parte della natura e Croce dice no, non è vero, le civiltà non sono organismi, noi dobbiamo combattere le visioni organologiche e naturalistiche ed egli obietta così, dice queste parole, la realtà è spiritualità e creatività. Quindi la realtà non è natura, la realtà storica non è natura, ma al contrario è spiritualità e creatività e non si lascia opprimere da concezioni naturalistiche che si rivolgono sempre, dice lui, significa che diventano sempre fantastiche e pessimistiche. Questo è un collegamento diciamo molto profondo che Croce fa, lui dice fate attenzioni miei lettori, fate attenzioni cari amici, quando diciamo in storia emergono concezioni naturalistiche, queste necessariamente diventano anche pessimistiche e Croce è sempre stato un nemico del pessimismo storico, del pessimismo anche in letteratura, si pensi diciamo al fatto che Croce non amava leopardi, ma su leopardi diremo forse qualcosa tra un istante. Dunque l'Europa non deve necessariamente tramontare, perché non è un organismo, non deve morire come muoiono necessariamente tutti gli organismi, può tuttavia tramontare. Se le classi dirigenti europee non saranno all'altezza del loro compito, allora sì, sarà giusto che essa tramonti. Croce poi scrive addirittura una seconda recensione a Spengler, questa testimonia dell'attenzione che gli ebbe verso lo scrittore tedesco, il filosofo della storia tedesca, devono passare dieci anni, nel 1932, lo stesso anno in cui pubblica la storia d'Europa, Croce recensisce questa volta non l'indigesto operone, come lui diceva, cioè questa grossa opera di centinaia e centinaia di pagine, ma una snella conferenza molto celebre di Spengler su l'uomo e la tecnica. Spengler prima di Heidegger, Heidegger sarà influenzato da questo, approfondisce il problema della tecnica, della tecnica non solo nel mondo moderno, ma nello sviluppo di tutta quanta la vita sul pianeta Terra. Non a caso questa conferenza, il sottotitolo di questa conferenza è lineamenti di una filosofia della vita, quindi il collegamento tra vita, perché anche gli animali hanno una tecnica, Spengler dice, e poi si arriva alla tecnica naturalmente novecentesca, la tecnica delle grandi macchine. In questo testo ci sono delle parole di Spengler che sono famose e nello stesso tempo famigerate. Spengler definisce in questo testo l'uomo come un animale da preda, Raub, Tia, Nietzsche, è molto vicino, Croce incontra questa definizione, è irritato e ribatte che senza un'alta e piena coscienza dell'umanità e del valore dell'umanità, e chi dice che l'uomo è un animale da preda, evidentemente non ha un'alta concezione dell'umanità, senza un'alta concezione dell'umanità, senza un robusto e delicato sentire morale, non si fa né filosofia della storia, né storia universale, che sono precisamente le due cose che Spengler invece voleva fare. In Spengler è centrale il concetto di storia del mondo, storia universale, Weltgeschichte. La storia d'Europa è dedicata a Thomas Mann, il grande scrittore tedesco, con una celebre terzina dantesca, tratta dall'inferno di Dante, pur mo' veniano i tuoi pensieri tra i miei, con simil faccia, sì che d'entrambi un sol consiglio fei. Cioè i pensieri di Thomas Mann e i pensieri di Benedetto Croce, moderni potremmo dire Dante e Virgilio, si incontrano ad un certo punto. Questo è il senso della dedica. È una dedica per certi aspetti sorprendente. Perché? È sorprendente perché la dedica di un libro intitolato Storia d'Europa nel 1932 viene fatta ad un tedesco. Perché sottolineo questo punto? Perché Benedetto Croce in quel periodo sta attraversando un profondo cambiamento della sua concezione storica ed anche un profondo cambiamento di ciò che significa la Germania per lui. Nel 1936 scriverà un testo celebre, la Germania che abbiamo amata, che abbiamo amata, ma che non possiamo amare più. Non possiamo amare più perché la Germania sta con il nazismo che si è ormai delineato all'orizzonte, con molti centrali episodi della storia spirituale del Novecento, la Germania sta pervertendo la spiritualità europea. E allora uno si chiede come mai dedicare un libro del genere ad un tedesco. Croce scrive delle lettere a Thomas Mann prima di dedicargli questo libro. I libri tra persone ben nate non si dedicano così, si chiede il permesso. Benedetto Croce scrive delle lettere importanti a Thomas Mann in cui dice caro signor Thomas Mann ci siamo conosciuti, abbiamo avuto delle conversazioni insieme a Monaco, io intenderei dedicarle il libro a cui sto lavorando, la storia d'Europa me lo permette. Sappia però che che nella storia, in questa storia, il ruolo della Germania non è un ruolo ormai positivo, non è un ruolo favorevole. E Thomas Mann gli risponde, certo, ne sono onorato, sarà sentita come una cosa bella e grande in tutte le parti del mondo. Quindi noi potremmo dire che Thomas Mann è un esponente della Germania buona e non della Germania, della Germania cattiva. La Germania che ormai sta pervertendo la spiritualità europea, tanto che si può parlare di una patologia dello spirito, anche nella costruzione crociana. È vero Croce combatte Spengler, però è consapevole degli elementi barbarici della modernità. Croce è della crisi anche della modernità. Nel 1946, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, Croce scrive un breve scritto famoso che si chiama La fine della civiltà. È uno scritto che parte da Leopardi, dalla ginestra leopardiana, uno scritto in cui Croce, cheppure era stato convinto, diciamo così, della razionalità della storia. Egelianamente dice no, in realtà è difficile pensarlo, anche per me però forse bisogna arrivare a pensare che la civiltà umana è come la ginestra, è come il fiore leopardiano soltanto tenuemente radicato sulle pendici montane, ma che può essere strappato via da un nembo avverso, può essere strappato via, potremmo dire, da una eruzione dello sterminator vesevo. E questa barbarie, questa crisi può essere una crisi proprio tecnica. Croce pensa una barbarie, diciamola con le parole di Giovan Battista Vico, una seconda barbarie. Croce ha scritto dei taccuini, dei famosi taccuini, sono i suoi diari. In questi, e mi avvio a chiudere la nostra conversazione, in questi, nella data del 1939, troviamo, diciamo, un frammento che mi ha colpito, dopo averlo letto per la prima volta, io non l'ho più dimenticato, 1939. L'anziano filosofo scrive in questa pagina di provare tristezza per la situazione europea, noi siamo partiti dal tema dell'Europa, e per il torbido avvenire. E poi si chiede, con parole che vanno attentamente meditate, se non sia possibile, e gli dice così, che veramente torni la barbarie, anche in piena modernità, anche nel pieno novecento, e che forse sia già addirittura tornata, ma noi non la riconosciamo perché la pensiamo sempre sotto la figura di quella degli Unni e dei Germani, con i loro carri, con i loro cavalli, mentre oggi i barbari, invece di carri e cavalli, corrono in auto e in veivoli veloci, maneggiando gli strumenti della tecnica più industrie, barbarie e tecnica, la seconda, la seconda barbarie, quindi nella fine della civiltà. È un mondo, quindi, il croce anziano lo deve riconoscere con dolore in cui si è perduto il centro. Croce parla in taluni frangenti delle sue opere di perdita del centro. Questa perdita del centro appare chiarissima nelle arti, perché ci sono pittori che dipingono quadri dove la testa sta al posto dei piedi e i piedi al posto della testa, insomma. E questo Benedetto Croce lo interpreta come perdita del centro. C'è una famosa opera di un importante storico dell'arte austriaco, purtroppo compromesso con il nazismo, Hans Ziedelmeier, che si chiama proprio così, perdita del centro, Verlust der Mitte. È dunque la patologia dello spirito. È come se un mondo, un intero mondo, si fosse ammalato, fosse impazzito. La mente corre ad un difficile allievo di Benedetto Croce, Ernesto De Martino, il famoso etnologo, che scrive un libro pubblicato postumo che si chiama La fine del mondo. La fine del mondo, contributo all'analisi delle apocalissi culturali. De Martino, influenzato da Croce, ma difficile allievo di Benedetto Croce, parla della crisi e dell'apocalisse della civiltà borghese. Una crisi mentale, mentale e spirituale. Un'apocalisse psicopatologica, in un certo senso, quando al mattino ci si può risvegliare, accorgendosi con stupore di essersi trasformato in un grosso insetto.